La Pauci, donna del vino Bene arrivata, bene arrivata Noi ci siamo sentiti mi pare in radio Abbiamo fatto una bella intervista Bene, contente di essere a Castelguono? Sì ma è, non è confortato Il nostro vino come procede? Sono molto soddisfatta, sono contenta Soprattutto perché attraverso il vino riusciamo a valorizzare No perché non ci ci va Per molti anni dimenticato È una zona della Sicilia che va bene Speriamo di andare avanti sempre così Grazie signora E allora a premiare sarà il dottor Giuseppe Di Maggio Assessore adesso non più dell'agricoltura Ma neoassessore della pubblica istruzione Pepuccio è in conflitto tuo Non ti puoi lamentare Insomma una donna in carriera Una bellissima donna E poi insieme a Pepuccio Di Maggio Vincenzo Carollo Responsabile di linea sessione Amici per Bacco C'è Vincenzo Carollo? Eccolo, è Carollo Noi siamo un po' ci conosciamo di ben chiarati Perfetto Allora possiamo consegnare i premi alla signora La Pauce Da parte sia dell'amico Carollo Che del dottor Di Maggio Eccolo qua Facciamo le foto Per i ricordi futuri Ragazzi qui cominciamo a salire davvero la febbre sale Miglior enologo Riusciuto con Angelo Gaia Dalla rinomata